La nostra scuola si può fare con le nostre mani, dobbiamo garantire alle nostre famiglie e ai nostri ragazzi di poter frequentare la nostra stessa in una condizione serenita. Pensate che noi da Gioia Italia abbiamo fatto i camponi a tutti i membri delle commissioni scolastiche per gli esami di Stato. Abbiamo fatto migliaia i camponi per garantire che anche i commissari che magari venivano l'altra mattina non portassero contare. Ora, noi dobbiamo proseguire questo sforzo. Può sapere che abbiamo fatto una cosa in prima parte, non solo un lavoro importante di tenuta sanitaria, con decisioni a volte difficili, perché se decidi di mettere in quarantena tutto il valore di l'aria. È una decisione difficile questa mattina economica e famiglia, ma quando registri, adate a Lugani, i primi 15 e poi i 20, e poi arriviamo a Sassano, le patteggiano, a Sassano Zedini, e poi fanno le feste, le cerimonie e bevono allo stesso bicchiere, si due subito. A Milano stanno ancora discutendo se doveva mettere la zona rossa il governo a Sassano.